Salve, benvenuti su New Horizon, nei confini della conoscenza. Con questo video inizio una serie di video di approfondimento per capire meglio Putin e i russi e lo faremo soprattutto attraverso l'analisi dei discorsi fatti da Putin e alcuni cenni storici su quella che sarà la presidenza Putin fino ad oggi. Ritengo infatti che il punto di vista di Putin e dei russi sia poco esplorato dai nostri media e questo ci impedisce di capire a fondo la gravità della situazione, situazione che presto potrebbe coinvolgerci tutti, inutile nasconderci dietro un dito. Come spesso avviene nella narrazione del mondo occidentale, si stabiliscono chi sono i buoni e chi sono i cattivi e non si fa mai una serie analisi storica e geopolitica della situazione accontentandosi di narrazioni puerili fatte di buoni contro cattivi. E naturalmente i buoni sono sempre gli americani, sempre la democrazia occidentale, la cosiddetta democrazia occidentale, e i cattivi sono gli altri. Putin che sarebbe un dittatore e la cosa è una cavolata pazzesca, Putin non è un dittatore ma un presidente democraticamente eletto, mettiamocelo in testa, poi ci sentiamo democratici noi italiani che non abbiamo mai eletto un presidente della Repubblica, un presidente del Consiglio, sono tutti personaggi che da anni più o meno ci vengono imposti. Draghi non l'ha votato nessuno, Monti prima di lui non l'ha votato nessuno, ma nemmeno lo stesso Conte l'ha votato nessuno perché non sapevamo nemmeno chi era. Poi Lega e Movimento 5 Stelle si sono accordati su questo nome oscuro che era Conte e l'hanno fatto presidente del Consiglio. Almeno i russi eleggono il loro presidente che si presenta con la faccia, nome e cognome insieme ad altri dieci e i russi scelgono chi deve essere il presidente. La Russia è molto più democrazia dell'Italia, quindi prima di dare del dittatore a Putin pensiamoci bene che noi facciamo bruttissima figura in questo campo. In quanto alla propaganda poi sicuramente ce n'è tanta nel campo russo, sicuramente non c'è dubbio, ma ce n'è tantissima e forse anche più nel nostro campo occidentale. Anche da noi c'è una propaganda che sfiora il ridicolo, per cui molto del materiale che presenterò e dei discorsi di Putin che tradurrò in questo e nei prossimi video potrebbero essere criticati perché presento della propaganda, si probabilmente presento della propaganda russa, ma almeno vi do un po' di informazione vista dal punto di vista dei russi, dato che l'informazione dal punto di vista degli occidentali, qui certamente non manca e non manca la propaganda occidentale, quindi talvolta fa bene anche sentire l'altra campana, senza necessariamente pensare che nella nostra e nell'altra campana siano la verità rivelata. Bene, cominciamo questo video e questa serie dopo una breve anteprima. è una verità di chiama. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.